Sold out per la pizza solidale per la ricerca contro la sindrome diretta organizzata a Sala Conselina nella pizzeria Modì dalla famiglia di Lua, la bambina valdenese che deve purtroppo fare i conti con questa malattia. In tanti hanno risposto alla chiamata di Agnese, la madre di Lua, per partecipare alla serata evento durante la quale parte dell'incasso è stato devoluto alla ricerca. Stare insieme è il regalo più bello di tutti, questo il messaggio lanciato dalla famiglia di Lua. Importante il contributo raccolto da un evento che verrà ripetuto anche nei prossimi mesi, proprio per la risposta ottenuta, molto concreta, con numerose persone che non hanno potuto partecipare per il completamento anzitempo dei posti da tavola. La sindrome di Rett è una rara patologia neurologica dello sviluppo che colpisce in modo prevalente soggetti di sesso femminile. La malattia congenita interessa il sistema nervoso centrale ed è una delle cause più diffuse di grave o gravissimo deficit cognitivo. Si manifesta generalmente dopo i primi 6 o 18 mesi di vita con la perdita della motricità, delle capacità manuali, dell'interesse all'interazione sociale.